5 minuti di intimità con Marlò. Marlò, sei bellissima, devo dire che sei stupenda. Allora, parliamo di questo spettacolo. Lady Burlesque a Barè, uno spettacolo molto accattivante, no? È molto ironico, questo è l'inizio del nostro tour, in realtà nasce tutto quanto con questo programma nato da un'idea di Gian Piero Solari. Per Sky è una vera e propria accademia del Burlesque, il primo talent al mondo, e ci tengo tantissimo a dirlo, che abbiamo creato noi italiani. E poi il primo talent al mondo di Burlesque. Quindi io esco fuori da questo programma, sono stata una delle quattro finaliste, e quindi sono stata scelta per questo progetto che è Lady Burlesque Cabaret, dove siamo tutti venerdì al Teatro Arciriuto di Roma. E ovviamente noi verremo a trovarti. Senti, ma questi giorni, pur usando un po', ho visto che veramente sono tante le donne che si iscrivono a corsi di Burlesque. Allora, ti chiedo a me, è una moda, è un'esibizione, è un modo di essere? Che cos'è? Che cos'è soprattutto per te il Burlesque? Ah, ecco, beh, sono due cose diverse. Esatto, tutto e due, lo voglio sapere, sono curiosa. Io credo che, come hai detto tu, è un po' una moda, è un po' esibizionismo, è un po' di tutto, è la voglia anche di riscoprire, per me ad esempio è stata proprio la riscoperta di una femminilità, forse accantonata per un po', poi con cui sono anche l'unica figlia femmina con quattro fratelli maschi, insomma, nascono in un quartiere bello popolare di Roma, quindi per me riscoprire degli atteggiamenti un po', femminili, retro, mi ha portato a migliorare, ecco, adesso ci tengo tantissimo quando esco, insomma, ai dettagli. E a che età hai iniziato, ti sei avvicinata a questa forma d'arte? A questa proprio, all'arte del Burlesque da poco, da otto mesi circa. Ho capito, prima facevi un teatro. Sono anche attrice di teatro, sì, sì, e cantante di canzoni romane. Ovviamente, è che infatti prima appunto parlavi di questa tua passione. Senti, ma è faticoso spogliarsi, nel senso che poi è difficile diventare un artista veramente di alti livelli del Burlesque? Beh, sì, come ogni lavoro che si debba fare professionalmente bisogna studiare per poi, ecco, non avere l'ansia da palcoscenico o non aspettarti chissà che cosa dal pubblico, perché non è il pubblico, sei tu che devi concederti al pubblico, non devi aspettarti tu qualcosa dal pubblico. Ci sono vari tipi di pubblici diversi, quindi non puoi aspettarti magari di solito sempre l'applauso, poi magari i miei spettacoli sono molto ironici. Ecco, quanta ironia serve proprio nella riuscita di un buon spettacolo? Dipende, perché ogni artista di Burlesque ha un modo suo, insomma, c'è chi fa degli spettacoli classici. Io ho puntato molto sull'ironia, perché era un po'... Mi sono resa conto, ed era stato proprio nel provino, io mi ricordo di averlo detto, che proprio anche per i discorsi che prima facevamo, proprio perché insomma non sono un essere umano anch'io, insomma ci sono dei momenti in cui io non ridevo più, e quindi non lo so, l'ho trasformato forse magari queste mie lagune, non lo so, queste... insomma voglio far ridere, voglio ridere, voglio divertirmi sul palco. Quindi Burlesque ti ha aiutato... Io pensavo, sai, magari dico, pensavo che un artista che facesse Burlesque magari fosse più timida, più introversa, quindi... Dipende, come tutti, come... cioè non lo so, è una cosa soggettiva. A me ha aiutato moltissimo a tirar fuori quell'allegria di fondo che ho, questo mio carattere è molto spontaneo, molto brioso, io sono molto Burlesque, ma magari prima... Comunque cambi, guarda, ti brillano gli occhi con questo tuo... Veramente cambia totalmente, veramente. Quando parlo di questo lavoro che mi appassiona da morire. Si vede. Senti, prima hai appunto detto, il pubblico non è tanto importante, ma un po' è importante poi anche per la riuscire dello spettacolo, cioè ti serve per una giusta carica, per... Io dico che il pubblico è importante, ma la cosa più importante è la sicurezza di noi artisti quando facciamo un'esibizione, non bisogna aspettarci dal pubblico qualcosa, il pubblico sta lì e paga un biglietto, non è dovuto a fare niente, cioè non è obbligato a fare niente, se non piace l'esibizione non applaude, se piace l'esibizione applaude, si deve sorridere e sorridere, e ci sono anche dei pubblici contenuti, perché ci sono dei pubblici intellettuali, diciamolo, lo dico perché è successo proprio qualche settimana qua. Cioè intellettuali, spiegami. Che non sono quelli che si lasciano andare, ci sono delle risate un pochino più... un pochino più così, piuttosto che delle risate più... Più sbagliate, ho capito, quindi abbiamo pure questo... Senti, ma esoglieni una curiosità, tutte le donne possono avvicinarsi avvicinarsi a questa forma di spettacolo. Assolutamente sì, tutte le donne, il burlesque è una burla, è un prendersi in giro innanzitutto, è un'ironia di fondo, è una malizia, è un... perché no, certo, tutte le donne, cioè una delle più grandi star americane che è Dirty Martini, insomma se parliamo anche delle physical role, si potrebbe dire che lei non ce l'ha, ma la vedete su un palco, lei spruzza sensualità da tutte le parti, quindi è piena, insomma, voglio dire. E poi vabbè, io lo consiglio proprio, noi poi tra le altre cose organizziamo, abbiamo un'accademia proprio del burlesque, proprio di là di Burlesque on Tour, e organizziamo dei workshop in base al città dove andiamo. Quindi un po' a tutte, anche dell'intimità seducivano il burlesque? Sai qual è il problema? Che io non c'ho un'intimità. Niente, non c'è stato verso, ma guardate, questa volta mai... Vabbè, senti Marlò, mi lasci una dedica nel nostro bagno? Certo. Cioè è una cosa bellissima, comunque, quando mi ricapita? Allora, rosso o blu? Blu come la Lazio. Blu come... sei della Lazio? Sì. Aia! Ah, come aia! No, no, io non sono molto... Però so che qui nei nostri studi la Lazio non è... Ah sì? Non è ben vista. E mentre scrivi, ne approfitto anche per chiederti, visto che mi hai fatto venire un po' la curiosità, ci fai un'esibizione? Un pezzettino proprio di qualcosa? Come dirti no, anche a te con questa... Oh, vedi? Ti ho convinto. E intanto ricordiamo ancora una volta Lady Burlesque, Cabaret, Quando, Marlò, ricordami le date. Tutti i venerdì al Teatro Arciliuto di Roma e c'è una soluzione di aperitivo, cena e spettacolo. Perfetto, e quindi possiamo venirti a vedere. Sì, grazie. Allora, con la voglia... Di vederti anche a te in Burlesque. Grazie. 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 Grazie.